Keycard, dobbiamo trovarla Non ci conto più di tanto, però più che altro vorrei... Provare A prescindere dobbiamo esplorare, quindi sto guardando la mappa E mi sa che... la mappa mi sa in una caverna Ma vaffanculo, Vale era qui tutto sto tempo a fianco ai container, non l'avevamo vista La ca... Qui Ma veramente Ma che... che cazzo di caverne ci sono? Così strane Non sai, povero No, mai, Aki Salva Mi cazzo salva... Ah, sì, vabbè In caso moriamo Nel cazzo Tanto lo sai, perché se moriamo, moriamo e basta Due in tra... no, no, allora di bivino Destra o sinistra? Altro intuito, Aki Tanto oramai tu trovi tutto Non so come Troviamo il bazooka, che non esiste Ah, vale dov'è il carro armato? Eh, l'ho lasciato in cantina Ma che... ma come cazzo? No E... andiamo Ah, aspetta Un'altra cosa... Un'altra cosa... Un'altra cosa... Un'altra cosa... Andiamo qua, andiamo qua... Calma, e si... piano Con calma Che un boss... Oddio Bomba Fai una cosa... Tira una molotov E io intanto scendo Ok Non tirarmela in testa, possibilmente Mi sta... cercando di... Ho l'idea Cosa ho fatto? Ok, che internazionale Copiscio Non ce la faccio Prendi i miei bambini Oh Muoglio, 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 muoglio Goodbye Goodbye Morto Morto Davvero Ma sei inserio, Vale Ammazzali subito perché mi devi restare, eh Sei crepo crepo Morto Grazie, Vale, ringraziami, eh Ti devo... ti devo pagare 12 euro Vale, ma quanta merda di gente c'è morta qua Guarda quanta gente Oh, ma qua non c'era la... Aspetta Cosa? Oh, ho trovato la videocassetta Oh, che culo Buono Aspetta, mi guardo tutti i filmati allora Vale, c'è un problema Che cos'è questo? Cosa? Guarda, sto tipo c'ha in mano qualcosa Aspetta, non vedo Perché ho la... Cos'ha in mano? Niente Cos'è? Non ha nulla in mano, Aki Ma sei scemo? Ti posso giurare Ma da me la keycard Tu stai scher... Non ce l'ha avere in mano il tipo Tu stai scherzando Eccola, ce l'ho Chiave elettronica Da usare come una porta Tu sei matto Andiamo subito lì se vuoi Ah, lo yacht Lo yacht Lo è Andiamo, 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 andiamo Sei tu dov'è? Sì, lo so io Segui me Usciamo da sta merda? Ma tu non hai la keycard quindi? Ce lo so io No Forse perché... Forse ho capito perché Perché forse... Per tutti gli altri oggetti è un'eccezione Ma mi sa che la keycard... È universale? Evidentemente la puoi usare solo lost Solo un player Ok, va bene Yacht Dov'è questo yacht di merda? Arriva Ok, io non l'ho mai visto tra l'altro Vedi quel martello laggiù questo? Segui me, segui me C'è un tipo, c'è un tipo, c'è un tipo, c'è un tipo Fai piano, c'è un tipo Ah, se stai l'uomo non ti verano di meno Corri Ok, bene, bene Ma sono sicuro che qua No, vale Ah, qui, lo yacht Mi ricordo dove l'avevo messo Evidentemente ti stai sbagliando No, 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 no L'avevo messo C'è un tipo dietro, c'è un tipo dietro Ma porca puttana Devo scassare il cazzo adesso Vale, c'è un tipo No, il martello non lo segna Perché siamo troppo lontani Però io l'ho messo Ancora vivo sei Ma aveva la vela? No, 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 erano yacht Andiamo e lo scuola e lo vedrai Fidati di me Ma sei sicuro che serviva una chica? Sì, ti giuro Mi sembra strano che serviva una chica Vatti a riguardare la live C'è una fossola a far esplodere qua Davvero? Sì, fai Vai Eh, vatti, vatti, vatti Una caverna sotterranea? I frammenti di pistola Vecchia pistola parte 4 di 8 Ci sono 8 parti? Guarda, voglio capire perché su sto albero c'è un altro punto da far esplodere, vale? Allora, un altro frammento di pistola? Ma quanto ho capito? Vai, metti la bomba Non si sta, vatti Non si è sentito il rumore? Io l'ho sentito Frammento di pistola Oh Se è uno yacht si vedrà No Porco il cazzo Eccolo Trovato? Visto che l'avevo segnato, me lo segna Vale, c'è un tipo Scusami, sono scemo io Io c'ho un tipo sulla barca Chio Non mi metto da un giorno Io morso Uno squalo Lo salta Eccoci, eccoci, eccoci Eccola, eccola Eh, non me la fa usare Cosa? Non me la fa usare No Scusami Ma io adesso cercherò Auto Access to the Yacht La keycard che ho trovato io Mi sa che è quella della porta Quella misteriosa nella caverna della voragine Obiettivo di adesso Andiamo a trovare la keycard Per lo yacht Col cazzo Visto, vale La keycard è nella neve Dobbiamo andare sulle montagne Zì, c'è un boss In superficie Dov'è? Là Hold my Non è che sta arrivando Ma È un arm Sì Scusami Mi spieghi Che finora non ci sono mai stati Beh, arriva Oh, aiutami Cazzo, fai la fermo Non so, non ero fermo Stavo venendo Evitalo, evitalo Cazzo, l'attacchi Ma evitalo Evitalo Paroloro C'è una tomba C'è una tomba Ho trovato una foto C'è Virginia Oh mio Dio Corri, corri, corri Non ce la farò mai Perché ci sono due boss fuori dal fuori Prossimo episodio andremo in quella porta Però io sono curioso dello yacht Neve È la taiga Mi hai sbloccato un ricordo Ah, io quando facevo le queste del pescatore su Terraria Che lui ti dice Eh, prendi questo pesce In questo bioma Lo peschi E poi a un certo punto Questo pesce Lo puoi trovare nella taiga E io non sapevo che cazzo era la taiga Tu dove cazzo sei andato Ah, ecco A quanti metri d'altezza siamo Vale, non siamo in montagna C'è semplicemente la neve Ok Un batto A caso Non è po- No, 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 no Ma l'è scriptato È scriptatissimo Andiamo, andiamo Pistola Pistola Cosa? Pistola Segnatrice TV Star's Wife Dies Oddio, poveri comandanti Come TV Star's Wife Dies? C'è un problema Dimmi Quello in foto sei tu Ho notato Siamo noi Ho notato E sei tu E a fianco c'è Timmy Quindi scusami Noi siamo una star Televisiva Ah, chi? Dobbiamo fare ipotermia Fuoco Fuoco Ma che serve La pistola segnalatrice Solo per sapere Penso serva Semplicemente per sparare I bengala Che cazzo c'è qua? Ma? Ah, niente Solo sbuffo di fumo Perché se Indigeni Porco Ma sono nudi Ma come fanno a stare qui Senza morire? Vieni, vieni Vai Io vedo come combatti Ha paura Oddio E' morto No, no, no Madonna Mi hai tolto Mi hai tolto Mi hai tolto Hai detto Mi hai tolto Ma io sto cercando di capire Se se ti pare Ti servono a qualcosa Non lo so Un'entrata Strana Una caverna Sì, magari Sei un salvataggio Sì, è un salvataggio Cose Oddio Quanti snack Che hanno Io vorrei una Una caverna Perché non ci credo Che non c'è una caverna Per la nego Sto controllando qualsiasi cosa Sono sul bordo della mappa È finita la mappa del gioco Oh, due tipi Due tipi Due tipi Non va bene Oh No, 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 no Mi rifiuto Muoio Mi sono morto Oh, Cristo Oddio Ma dove sei? Non ho venuto un nickname Dove eri prima? Tu Es eerste E sull'erba Neve Eccoti Eccoti, eccoti 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 muoviti corri 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 non ti voltare corri e non ti voltare corri e non ti voltare oddio mi seguono ma tu sei matto fanculo di indigeni e sto bioma di merda ho fatto mi sono fatto la cura con le piante vale ti rendi conto che ti senti cazzuto bravissimo dove cazzo è sta piccardo che cazzo mostri braccio è bello si è bellissimo si no 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 se il lag di discord l'ha contribuito perchè hai detto hai laggato tutta la mappa abbiamo esplorato quasi cioè mi sembra assurdo no vale dobbiamo andare nella porta di lavoraggine oh salvataggio basta terminiamo qui corri 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 vale ci siamo mi ricordo ci siamo vale tre tre due due uno uno vai via via ma oh 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 che cosa cazzo ma che cazzo di posto è che cazzo di posto è